Grazie a tutti. La famiglia sta diventando, si appresta a diventare una maison, un ristorante che continua nel tempo come i grandi ristoranti francesi, come Trois Gros, oppure come si sta facendo in Italia il Don Alfonso, Alberto del Pescatore. E' solo che stavolta il testimone non passa a un cuoco di famiglia, la famiglia rimane con Stefania Moroni in sala che gestisce il ristorante, ma passa a questi due ragazzi di 30 anni che hanno finalmente preso in mano in toto la cucina. E' curioso vedere che il più storico... Grazie a tutti. Grazie a tutti.